Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Fio. La storia di oggi è una storia veramente molto delicata e particolare, credo che vi appassionerà, passatemi il termine tanto, perché è una storia incredibile fuori da ogni logica e credo anche che vi disgusterà parecchio. Ultimamente mi sto immergendo e avventurando nuovi seminati da proporvi, soprattutto quelli della manipolazione mentale, però appunto non illudetevi perché è una storia molto disturbante, che vi farà trattenere il fiato e spero che possa insegnarci anche molto. Ultima cosa che vi dico prima di partire, sentite che sono un po' in affanno, non sto tanto bene, ho questa forma asmatica che mi viene principalmente in primavera e che sta peggiorando anno dopo anno, quindi sono in cura in questo momento, ma sentite che ho il respiro un po' affannoso, la voce un po' rauca, il motivo è questo. La prima volta che lui la vide, di lei disse questo. Era così bella, sveglia e vivace e mi fece un così grande sorriso e mentre me lo faceva aveva queste simpatiche fossette sulle guance. Mi conquistò il cuore, mi avvicinai e l'abbracciai a me stringendola forte, mi guardò con occhi raggianti e io capì di aver trovato la bambina che stavo cercando e con un inizio così figuratevi dove potremmo mai andare a parare. Jeanne Broberg è la protagonista della nostra storia e quando questa storia inizia lei è solo una bambina, descritta come gioiosa, frizzante, energica. È la prima figlia di Bob Broberg e Mary Ann Broberg. Ha due sorelle minori, Karne e Susan e loro la descrivono come il loro mito. Karne, ad esempio, è più timida e riservata, mentre la sorella maggiore Jeanne è un vulcano di brio. Le sorelle hanno due anni di differenza ciascuna, quindi sono molto vicine a loro, giocano, si divertono, crescono insieme. Loro descrivono la loro infanzia come comoda e spensierata perché la loro è una famiglia davvero serena. La famiglia Broberg abita a Pocatello in Hidao, uno di quei quartieri pacifici dove non ha nemmeno bisogno di chiudere a chiave la porta di casa perché non accade mai nulla di strano. I Broberg sono amati nel vicinato, sono una coppia dolce e convenzionale, molto stimata. Lei è casalinga, passa le giornate tra il giardino e le faccende domestiche, una presenza rassicurante appena le figlie tornano a casa. Lui è un fioraio, per 40 anni gestisce un negozio di verde e fiori, ha mani molto delicate. Tra i vicini in quella zona si va d'amore d'accordo, ci si aiuta, si frequenta la chiesa del posto e i Broberg frequentano la chiesa mormone del loro paese e poi ci si incontra nel weekend per farsi compagnia. Splendido! Nel giugno del 1972 la famiglia Broberg fa un preciso incontro, conosce un uomo, Bob Berchtold. La prima ad avere un aggancio con lui è Mary Ann che canta e dirige il coro della chiesa. Vede questa nuova famiglia entrare appunto all'interno della chiesa e per lei è immediato essere accogliente e fare amicizia. Le fanno un'ottima impressione, tanto che tornata a casa ne parla con suo marito Bob. Sai Bob, sono molto simpatici, hanno cinque figli, alcuni hanno l'età delle nostre, lui è così gentile, prova a conoscerlo meglio. E così Bob e Bob, perché manco a farlo apposta si chiamano uguali, fanno amicizia. Bob Berchtold è così affabile in effetti, è un imprenditore e c'è tanta sintonia. Loro parlano di lavoro, hanno molti obbi in comune, appunto oltre al fatto di essere entrambi due imprenditori hanno famiglie e figli piccoli. E trovare altre famiglie con cui uscire, fare una gita, una grigliata e un giardino può essere molto soprattutto quando hai dei bambini piccoli perché si condividono gioie e oneri e si alleggerisce un tempo che talvolta può apparire più statico di quello che ti sei appena lasciato alle spalle. E loro sono davvero adorabili. Una delle prime cose che fanno i Berchtold, pensate, è lasciare fuori casa dei Bruberg un omaggio, un cesto della frutta con un biglietto. Vi adoriamo i Berchtold. Bob Bruberg quella precisa volta ne fu emozionato, pensò che fortuna aver incontrato un uomo, un amico e una famiglia così. Ora, per non fare confusione, d'ora in poi chiamerò Bob Berchtold, quest'uomo qui, il signor B, perché era così che veniva chiamato dalle figlie dei Bruberg e successivamente un po' da tutti. Mary Ann fa a sua volta conoscenza con la moglie del signor B, Gail, ma pensa che in realtà loro due non siano proprio una coppia così ben assortita, c'è qualcosa che non va fra di loro. Lei poi è così timida, riservata, in un angolo, rispetto a lui che è iper socievole ed esuberante. Ma ad ogni modo i Bruberg e i Berchtold diventano grandi amici e ogni componente della famiglia lega con uno dell'altra. Bob con il signor B, Mary Ann con Gail e i bambini tra di loro. Iniziano a passare tantissimi momenti insieme, la mattina partono per delle splendide gite, i Berchtold passano a prendere i Bruberg e le bambine salgono in macchina urlando di gioia. Sarà una giornata fantastica. Il signor B è sicuramente il più presente a casa Bruberg e spesso va anche dopo cena a trovargli. Parla con Bob ma gioca molto anche con le bambine. È molto divertente, le fa volare, fa con loro i puzzle e sappiamo quanto i bambini amino chi gioca con loro, soprattutto se è un adulto. Per loro il signor B è come un secondo super simpatico papà. Il signor B però non tratta le figlie dei Bruberg tutte allo stesso modo. Lui ha una predilizione, una preferenza che a guardare bene si inizia a cogliere. Lui stravede per Jean, la maggiore. Le chiede di chiamarlo fratello B e anche lui le affibbia tanti buffi soprannomi tra cui Dolly come la bambola. Le dà dei buffetti, la osserva sempre, scherza con lei, la sfiora e le scatta moltissime foto. Jean che ha nove anni, sul divano con le gambe raccolte, in piedi, seduta. Ben presto i genitori di Jean, Bob e Mary Ann, si accorgono di queste attenzioni e iniziano a trovarle fastidiose. Lui ha sempre questa macchina fotografica dietro e adora fotografare Jean in pose che sembrano quasi seducenti e che sono chiaramente direzionate da lui. Spesso la fa stare con il ginocchio alzato, una gamba stesa, con le gambe in parte scoperte e calzettoni che arrivano al ginocchio. I genitori di Jean trovano queste attenzioni un po' morbose e un po' anche preoccupanti, ma Jean chiaramente non si accorge di nulla perché per lei quell'uomo è come un secondo padre e per Giunta ha un amico dei suoi genitori, quindi è davvero un porto sicuro. Non ha nessuna malizia per notare attenzioni inopportune in quell'uomo, ma nonostante queste attenzioni siano un po' troppo sollecite, nessuno arriva davvero a pensare male di Bee, perché loro sono così amici, sono così uniti, che è sempre un piacere la loro compagnia e non si può pensare male e così il tempo scorre. Passano due anni in questa maniera e Jean ora ha 11 anni ed arriviamo ad una data precisa, il 17 ottobre del 1974. Il signor Bee chiede alla madre di Jean, Mary Ann, di portare via Jean con lui. La vuole condurre a un maneggio a cavallo ad American Falls, ma lei non è convinta. Il signor Bee dunque si presenta direttamente da loro e con i suoi modi affabili spiega a Jean direttamente che cosa è in programma e ancora una volta Mary Ann si oppone. Jean domani è in scuola, oggi è lezioni di pianoforte, ma la piccola è entusiasta, supplica e lui alla fine concede addirittura una mediazione. Beh, la vado a prendere direttamente io a pianoforte. A quel punto alle strette Mary Ann accetta, mai perentoria. Vi voglio a casa per ora di cena. Così puntuale il signor Bee passa a prendere Jean a pianoforte e appena lei sale, lui sorridente le dà una compressa in mano. Prendi la tesoro, ho il tuo antiallergico e poi andiamo a cavallo. Lei non ha alcun dubbio e tranquilla tragugia quella pillola. Pochi istanti dopo Jean è già svenuta, tanto che non ricorda nulla del tragitto né dell'arrivo al maneggio. Alle 21 di quella sera Mary Ann è angosciata, pensa ad un incidente. Arriva anche la moglie del signor Bee, ricordate che il signor Bee ha cinque figli piccoli a casa. Le due si abbracciano, sono molto preoccupate e vorrebbero chiamare subito la polizia, ma Gay li comincia ad aspettare. Sarà qui a momenti, vedrete. Ora è molto difficile non essere ipergiudicanti raccontando questa storia ascoltandola, perché alcuni punti, lo ammetto, sono strani e in parte ci saranno delle spiegazioni a questi atteggiamenti più avanti, quindi non vi svelo nulla. Sviscereremo tutto piano piano. Quindi loro sono partiti giovedì, non sono rientrati, passa la notte, passa venerdì, la bambina salta alla scuola eppure non chiamano la polizia. Mary Ann affermerà di non aver chiamato per non agitare Gayle. Ma intanto quello che potrebbe essere un incidente o un sequestro di minore non viene denunciato da parte della famiglia della minore in questione. Loro aspettano. Dopo due giorni Bob si convince. Bisogna denunciare e si è fatto sabato mattina. Mary Ann quindi digita finalmente il numero dell'FBI, ma riferirà che gli uffici sono chiusi. Una voce metallica li invita a chiamare per le emergenze l'ufficio di Bit in Montana. Però Mary Ann non chiama. Dirà che non voleva allarmare così tante persone? Tutta quella gente per niente. E così riprendono da dove li avevamo lasciati, cioè si siedono sul divano e aspettano. Domenica sono ancora lì che aspettano. Il 22 ottobre del 1974 sono cinque giorni che la piccola Jen, uscita per andare a cavallo con un amico di famiglia, manca da casa. Finalmente si decidono a chiamare i soccorsi, risponde l'agente speciale dell'FBI, Pete Welsh, in servizio da sette anni nella sezione di Pocatello. Lui e un collega si recano sul luogo del rapimento, ovvero casa dei Bruberg, ed esatto lo definiscono subito un rapimento, perché questo in effetti parrebbe. Parlano per tante ore con i genitori della minore. Il presunto rapitore è un loro carissimo amico di famiglia, è un imprenditore, un marito, un padre di famiglia, un membro della chiesa stessa, della famiglia della minore, la chiesa mormone, un pilastro di quella comunità con moltissimi amici e una reputazione solida e impeccabile. E la famiglia non è nemmeno arrabbiata, perché loro non riescono a sospettare alcuna malafede da parte del loro amico. Non ci riescono a pensare, nemmeno dopo cinque giorni, che la loro bambina è sparita. Loro continuano a ripetere, non l'ha rapita, l'avrà portata da qualche parte. Ma gli agenti continuano a loro volta a ripetere, signori, l'ha rapita, ha preso vostra figlia. Interrogano anche Gail, la moglie del signor B, che in questa storia ha un ruolo veramente in un angolo, appunto. Lei è a casa con i loro cinque figli. Chissà che opinione ha della cosa, io non ho trovato alcuna notizia su di lei. La donna racconta semplicemente che loro hanno anche un camper in un garage, in città, e quando vanno a controllare questo camper non c'è più. Quindi le indagini partono in maniera abbastanza chiara e delineata. Ovvero si pensa che quest'uomo abbia rapito questa bambina e che loro siano lì fuori da qualche parte con quel camper. Qualche giorno dopo un agente di pattuglia di nome John Glenn segnala una Ford abbandonata a Register Rock Stick Park. Lo sportello del guidatore rotto e le chiavi sono all'interno. Sulla parte interna del finestrino in frantumi ci sono tracce di sangue. L'auto è del signor B. Il finestrino è rotto dall'interno e se qualcuno li avesse aggrediti sarebbe stato infranto dall'esterno. Sembrerebbe che lui abbia lasciato proprio sgozzolare del sangue dopo essersi ferito per lasciare intendere che qualcuno li avesse rapiti. È veramente scaltro. L'intorno ci sono anche impronte di scarpe molto affossate e tracce di un mezzo pesante identificato come un camper. Le impronte sono di una sola persona ma sono molto affossate. sembrerebbero indicare appunto una persona che in quel momento stesse trasportando qualcosa come ad esempio il corpo di una giovinetta addormentata. L'indagine diventa nazionale e vengono diramati ordini urgenti a tutte le forze nazionali del paese e alle frontiere con Messico e Canada. Li cercano davvero per settimane. Oltretutto come vi ho detto quest'uomo è padre di cinque bambini è un imprenditore ma in quel momento ha lasciato tutto e non si fa scrupoli a ritagliarsi un angolo di paradiso con Jeanne la sua ossessione perché questo l'è per lui. La famiglia non sa che pensare. I genitori di Jeanne sono preoccupati ma anche sconvolti. Le sorelle minori sono impotenti. Casa loro brulica di agenti. Le facce sono sempre tese. Il letto del loro mito della loro sorella maggiore è vuoto. Un giorno su quel letto una delle sorelline di Jeanne vede Bob suo padre steso a piangere. Una scena che la disarma perché lei e suo padre non lo aveva mai visto piangere prima. La famiglia manco dirvelo è molto provata emotivamente ed è al centro dei riflettori, delle chiacchiere. In quelle tre settimane molte persone vanno a trovare gli amici, vicini, l'intero quartiere è estenuante. Sono tutti molto toccati dalla vicenda perché Bob Berchtold B era un uomo stimato, conosciuto, che frequentava altre famiglie. Tutti parlano, tutti chiacchierano, molti le rassicurano. Non le farebbe mai del male. E anche Marianne, sua madre, continua a ripeterlo. Ma comunque ditemi un rapimento. Non vi sembra fare male ad una bambina? Non vi sembra un trauma difficile da superare? Anche ammesso che lui non l'abbia mai sfiorata in quel periodo. Ogni sera la famiglia Broberg chiude gli occhi e si domanda dove sei? Cosa fai? Come stai? Nel frattempo l'FBI scava nella vita dell'uomo latitante scoprendo fatti inquietanti. A quanto pare il signor B ha un debole per le ragazzine. Il fratello del signor B, Joe Berchtold, non ci va per il sottile. Afferma questo. Mio fratello è sempre stato un pervertito. Gli sono sempre piaciute le bambine. Lui fa delle affermazioni veramente schiette e molto pesanti. Insomma non ci gira attorno. Lui dice è un pedofilo e io lo so da sempre. Lui racconta che nella loro infanzia quando mamma e papà una volta erano via di casa B aveva iniziato a molestare la sorella che in realtà è una sorellastra. All'epoca B aveva 13 anni e la sorella appena 6. Ci abbiamo girato attorno fino ad ora ma ovviamente l'abbiamo capito tutti. B è esattamente quella roba orribile lì. L'individuo più depravato e pericoloso che possa girarsi nel nostro tessuto sociale. Un predatore di anime bianche. Queste persone sono sempre esistite ma all'epoca l'FBI non aveva ancora coniato il termine che oggi si usa. Li definiva come estranei pericolosi. Pete Welch che lavora il caso in maniera primaria rispetto ai suoi colleghi non se n'era mai occupato prima ed è veramente disgustato. Perché continuando a scavare intorno a quest'uomo scopre cose che gli fanno accapponare la pelle. Lui aveva provato ad adescare altre due bambine della città sempre con i riccioli e bionde. I genitori lo avevano allontanato ma lui comunque aveva scattato alcune foto alle piccole. La sua firma, i suoi cimeli. Dopo queste bambine riesce ad insinuarsi a casa Broberg e a catturare John. Lui aveva sempre calcolato tutto. Il cesto di frutta, il biglietto gentile, le gite, l'amicizia, le grigliate. Tutto aveva un secondo fine. Sedurre la piccola John. Ma si era spinto anche molto oltre dentro a quella famiglia. Lui era pronto a distruggere qualsiasi cosa potesse frapporsi fra lui e l'oggetto del suo desiderio. Il suo obiettivo non era soltanto rapire questa bambina, ora lo vedremo, ma staccarla dalla famiglia e fare in modo che lei volesse davvero stare solo con lui. Vi faccio degli esempi, vi racconto il prima. Mettiamo un attimo in pausa il rapimento, poi ci torneremo. John, ad esempio, condivideva una grande camera con la sorella Karen al piano di sotto e insieme erano felici. Ma il signor B iniziò ad inculcare loro l'idea di quanto fosse bello avere due camere separate. Del resto lui aveva un negozio di arredo. Quindi si offre di costruire un muro divisorio per dividere la stanza in due parti. Una scusa per stare sempre lì con loro ma anche per separarle. Le bambine poi a volte fanno anche dei pigiama party nel giardino dei Berstold utilizzando un tappetto elastico e dormendo sotto le stelle. Beh, figuriamoci se il signor B può resistere alla tentazione sapendo che John è così vicina. Una notte John si sveglia e si accorge che qualcosa non va, ha le mutandine abbassate fino alle caviglie. Si spaventa molto quando si sveglia e poi trova il signor B di fianco a lei che la sta toccando. Le dice che probabilmente lei era troppo scomoda lì di fuori in giardino e dunque si era mossa così tanto che le mutandine le erano scivolate fino ai piedi. E a lei questa avversione sembra probabile, molto più probabile del fatto che fosse stato lui a farle quello. È un uomo capace di adularti, di cogliere il tuo lato debole, di farti dei favori e alla fine di ricattarti. Un vicino Cor Hoffman racconta che un giorno invita B la sua famiglia a fare una gita in barca e che lui però aveva invitato anche la piccola John. Cor però rimase così disgustato da quella gita che non volle mai più vedere i Berstold perché sentiva che qualcosa non andava. Ma che cosa secondo voi? Chiaramente aveva notato le attenzioni morbose che B riservava a quella bambina. Ma andiamo avanti. Come vi ho detto io ho messo un attimo in pausa il rapimento e vi sto raccontando tutto quello che quest'uomo è stato capace di imbastire negli anni in cui ha messo in campo il suo piano. Un anno prima del rapimento, nel giugno del 1973, John va in vacanza con i Berstold a Seattle e non è la prima volta che va in vacanza con loro. Ma quando tornano a casa vengono fuori strani comportamenti che John ha avuto in vacanza con loro. Dicono che a volte si dondolava, che diceva cose strane e in questi frangenti lui la portava in camera con sé perché la bambina secondo lui non stava affatto bene. Più avanti negli anni una John adulta racconterà che lui l'aveva portata in quei frangenti in motel e che lei era intontita e continuava a perdere i sensi. Probabilmente perché lui l'aveva assedata. Poi quando John a tratti si ridestava si ritrovava il signor B in penombra completamente nudo che si mostrava a lei. Il rapporto tra John e il signor B inizia a crescere e diviene morboso ma lui prima di puntare direttamente lei di rapirla ha un altro obiettivo distruggere i suoi genitori Marianne e Bob perché notoriamente coloro che solitamente si frappongono fra un predatore di anime bianche e le loro prede sono i genitori o i tutori. Io scommetto che voi vi sarete a questo punto della storia chiesti perché questi due genitori non fanno nulla per giorni quando la figlia viene rapita perché sono incapaci entrambi di avere una reazione normale. Il loro comportamento possiamo dircelo risulta grottesco ma dietro a questa storia ci sono molti altri lati oscuri e noi dobbiamo tornare ancora più indietro nel tempo due anni prima del rapimento. Siamo nell'autunno del 1972 e una mattina Marianne risponde al telefono e dall'altra parte c'è il signor B. Ciao Marianne non riesco ad uscire dal negozio per pranzo mi porteresti un panino? Ok pensa Marianne e non gli porta un sandwich solo quel giorno ma anche tutti i giorni dopo. Lei non si domanda perché il signor B non chiami sua moglie Gayle ma lei. Marianne è affascinata da lui è un uomo con molto più carisma del suo monimo il marito Bob e in paesi tutti lo ammirano. Per lei è un vero piacere. Questo piacere diventa liquido quando lui inizia a dirle che è una donna molto bella sensuale con gambe splendide e un corpo stupendo. Lui la fa sognare lei trova tutto questo davvero eccitante. Insomma non ci giro tanto attorno lei si prende una cotta per lui pesantemente. Cerca di resistere alla tentazione e si ripete di non pensarci troppo ma il gioco è fatto il seme lanciato. Un giorno loro due partono per una celebrazione con la chiesa a Logan nello Utah e mentre sono in viaggio decidono di fare un giro sulle montagne e prima di andarsene beh accostano la macchina e iniziano a spingersi un po' oltre. Un abbraccio si tengono le mani poi si danno un bacio poi lui le accarezza il seno. Non vanno oltre a questo. Comunque lui quel giorno la fa compromettere quel tanto che basta pur senza andarci a letto. Mary Ann è sposata da 13 anni quando torna a casa è sconvolta cerca di ricomporsi ma non fa altro che pensare ai baci di B e al suo profumo. È davvero eccitante. Ma lui non si ferma solo a Mary Ann. Assolutamente no perché gli manca un altro pilastro della famiglia. Un altro pilastro da compromettere. Sono tutti i passi necessari questi per arrivare a Jan. Fa tutto parte del suo disegno. Così un giorno il signor B si confida con Bob il padre di Jan dicendogli che lui e sua moglie Gay hanno una pessima intesa sessuale. Pochi giorni dopo ancora passa dal negozio di fiori di Bob ed è molto turbato. Lo invita a fare un giro in macchina con lui in amicizia per sfogarsi e Bob accetta. Mentre sono in macchina in un luogo appartato il signor B si ferma e dice con Bob. Non sopporto mia moglie ma ho bisogno di fare sesso. Bob lo guarda e può anche notare quanto lui si è eccitato dal cavallo dei suoi pantaloni. B gli dice Bob mi daresti un po' di conforto. Bob però non è che gli dice sei impazzito. Bob la prende a ridere. Non è imbarazzato. E allora il signor B gli dice dai Bob è roba da ragazzini dammi un po' di conforto. E Bob accetta. In quella macchina B si abbassa i pantaloni e Bob allunga la mano e lo masturba. Bob riferirà anni dopo che quella è la cosa peggiore che lui abbia mai fatto nella sua vita perché ha tradito per la prima volta la fiducia di sua moglie ma ancora di più perché poi ha capito di essere stato manipolato per poi essere ricattato. E quel ricatto ha come premio finale la sua bambina. Sarà lo stesso Bob Berchtold B a confessare anni dopo di aver iniziato quella relazione intima con Mary Ann e con il padre di Jan Bob solo per arrivare alla bambina. È ossessionato da lei e lui dice che non sa bene nemmeno perché mai così. Riesce così a ingannarli a distruggere le loro difese per averli lontani da Jan e averla tutta per sé. E questo spiega solo in minima parte perché i Broberg siano così resti a telefonare subito alla polizia ma io non li sto giustificando attenzione. Vi sto semplicemente spiegando che cosa c'è dietro. Andando a fondo l'FBI scopre che nel gennaio del 1974 Bob Berchtold era stato inoltre ripreso dall'alto consiglio della chiesa mormone per aver importunato un'altra bambina. Quindi molte persone sapevano di questa sua devianza ma anziché denunciarlo avevano deciso di mandarlo in terapia da uno psicologo a Idao Falls. Quando lui inizia questa terapia racconta ai genitori di Jan della terapia ma con un'altra verità, con un'altra prospettiva. Confide ai suoi amici, i genitori di Jan, di andare in terapia perché da piccolo lui era stato abusato da una zia quando aveva appena 4 anni. Chiede quindi aiuto a Bob dicendogli che parte della sua terapia consiste nello stare da solo con altre bambine e chiede quindi di poter rimanere in compagnia delle figlie di Bob a scopo terapeutico. E gli dice se non ti fide di me Bob, puoi anche chiamare il dottore e ti spiegherà tutto. Bob ovviamente si fida di lui e gli dà il permesso di restare solo con le sue figlie, in particolare con la maggiore Jan. Così quando Jan va a letto il signor B scende e va da lei sdraiandosi nel suo letto. I genitori di Jan sono un po' a disagio però è la terapia quindi come possono negargliela? È impressionante come i genitori di Jan siano talmente plagiati da questo individuo da permettergli tutto, persino di stendersi nel letto della figlia piccola. Ovviamente dalle indagini emerge che questo psicologo non era nemmeno più abilitato ad esercitare ed è uno psicologo, pensate, che aveva dato a B delle strane cassette che lui ascoltava vicino alla bambina. Cassette che recitavano frasi come immagina il rumore delle onde e lei che ti accarezza più velocemente e senti la coperta calda e morbida che ha un buon profumo. Cose così, cose da metterti i due dita in gola e vomitare. Cioè lui la molestava sotto gli occhi dei genitori, si premeva contro di lei, si strusciava contro di lei mentre i genitori erano di sopra a farsi la tisana. Le dava vitamine o pillole per l'allergia che in realtà erano sonniferi per poterle fare ciò che voleva. Ma i genitori sono ciechi, non si accorgono mai di nulla, non si accorgono di aver consentito a far entrare un pedofilo direttamente sotto le coperte della loro figlia minore. Occorre veramente tantissimo tempo per convincere queste persone ad aprire gli occhi perché stando alle indagini, pensate, prima del rapimento, poco prima, B aveva dormito quattro sere a settimana con Jan per sei mesi, dormiva tutta la notte con lei e anche qui mi domando Gail dove fosse che cosa facesse. Fino al giorno del suo rapimento, fino alla notte prima, lui ha dormito con lei e il rapimento chiaramente è stato il passo successivo. E ora torniamo dentro a questo rapimento, abbiamo lasciato lì Jan e ora dobbiamo accompagnarla in quello che è stato il suo personale calvario con quest'uomo. Il giorno 1, come vi ho detto, è il 17 ottobre del 1974. Jan si risveglia al buio, prova a muoversi ma è intontita. Si ritrova sdraiata in un letto con i polsi e le caviglie legate da lacci. Sente una voce metallica e meccanica accanto a lei che le ripete delle frasi e accanto a lei c'è un piccolo interfono bianco che gracchia. A questo punto Jan pensa di essere stata rapita da un ufo. Continua a perdere conoscenza, si addormenta e si ridesta e quando si risveglia di nuovo non è più legata. L'interfono però continua a parlare e scopre così che effettivamente degli alieni l'hanno rapita e si chiamano Zetta e Zetra. Le dicono che anche lei è in parte aliena perché sua madre è umana ma il suo vero padre in realtà no, è di razza aliena. Ora io la voce da ufo non ve la so fare nonostante la mia raucedine quindi pensate a queste parole che sto per dirvi con una voce tipo da ufo. Abbiamo... no, lasciamo proprio stare. Abbiamo una missione importante per te. Trova il compagno maschio per compierla. Questa missione in sostanza è dare alla luce un bambino per salvare il pianeta alieno. Questo è entro i 16 anni di vita di Jan. Ragazzi che botta, ve lo posso dire, è roba proprio forte questa. L'interfono le comunica anche che se Jan avesse fallito il piano, la seconda opzione sarebbe stata rapire la sorellina Susan. Anche lei è meta umana e meta aliena. A quel punto la voce le ordina di andare sul davanti del camper dove avrebbe trovato il compagno maschio. E quando chiaramente lei va davanti, chi trova, secondo voi? Il signor B, seduto sul divanetto. Lei è così spaventata che quando lo vede prova sollievo perché B è una persona a cui vuole bene e che è sempre gentile con lei e che conosce soprattutto. Lui è mobile sul divano, si è tagliato, è sporco di sangue e ha gli occhi chiusi. Sembra morto. Quindi Jan piange, lo scuote, vuole solo che lui si svegli. E allora lui, dopo averle stillato dentro la certezza di aver bisogno di lui, si ridesta e le racconta cos'è accaduto. Cioè che mentre erano in macchina e si stavano recando al maneggio, era apparsa una luce bianca cecante. La macchina vibrava e la luce proveniva dal cielo. B appare confuso. Quella luce forse ci ha catturato. A questo punto Jan gli dice, noi siamo qui insieme perché abbiamo una missione. Quindi Jan ha capito che lui è il suo compagno maschio e che insieme devono avere un bambino. Ed è convinta di questo. Il fatto che lei abbia ormai 12 anni e lui 40 è strano, sì, quella situazione assurda, ma poi Jan pensa, io sono metalliena? Per forza sono strana, non sono normale. Ora io capisco che possa sembrarvi tutto assurdo, ma questa ragazzina è stata manipolata e plagiata per anni mentalmente a dei livelli impressionanti. La manipolazione è iniziata da molto tempo e ora lei lì sola, sconvolta, diprivata da tutto, spaventatissima, sedata e drogata e avrebbe creduto davvero a qualsiasi cosa. Quindi passano le settimane e in queste prime settimane Jan vive senza capire bene dove si trovi o come scorre il tempo anche perché viene costantemente sedata. B inoltre nel camper tiene alcuni libri che passa Jan e sono libri che indottrinano sul sesso, spiegano come farlo, come funziona, cose così. Passato un po' di tempo l'interfono dà un nuovo compito a Jan. È il momento, devi chiedere tu al tuo compagno maschio di fare ciò che rende tutti felici e così avviene. Jan non ha ricordo di una violenza feroce, no, ma la sorte che subisce quella di tante altre donne che vengono abusate o bambine che vengono abusate. Lui è molto tenero con lei, non la pentra subito, ci prova un po' alla volta, inserisce piano piano un po' alla volta. Vuole che per lei tutto sia piacevole e quando questo avviene Jan solitamente fisse il piccolo blow al soffitto del camper in alto perché lì c'è un albero e lei per sopportare tutto questo si scollega e si focalizza su queste piccole foglioline che si muovono al vento. Il 20 novembre del 1974 Jan Broberg manca da 35 giorni ed è completamente in balia di quest'uomo. B chiama suo fratello per chiedergli di andare da Marianne e fargli avere il permesso scritto per lui e Jan di tornare negli Stati Uniti e sposarsi. Per la legge missilicana infatti per sposarsi bisogna avere 12 anni dunque loro sono già stati in Messico e si sono sposati ma in America questo matrimonio non è legale e oltretutto B rischia l'arresto. I genitori però non la consentono. Il fratello di B a questo punto John contatta subito la FBI e loro mettono una cimice nel suo telefono. In una di queste conversazioni B dichiara di essere a Mazlan in Messico dove vengono rintracciati in un hotel. Qui i federali messicali li catturano. La polizia messicana non ci va per il sottile, arriva al camper, bussano, fanno irruzione e filano Bean e Jan in una piccola auto e Bee sembra davvero molto spaventato. Guarda per una volta Jan smarrito. Vengono condotti in un carcere messicano finché poche ore dopo Jan viene condotto in un sotterraneo buio e umido fino alla cella di Bee. Bee infatti aveva barattato la sua fede d'oro, la fede del suo matrimonio con Gail, per poter parlare con lei. Le dice Jan dico alla tua famiglia che ti ho portata in vacanza. Ho fatto un errore e siamo andati troppo lontano e avrei dovuto avvisarli. Ho visto gli alieni Zetta e Zetra sono venuti da me e mi hanno detto che ci sono quattro cose che non puoi dire. Non puoi parlare di loro cioè di Zetta e di Zetra e del pianeta alieno. Non puoi parlare delle pillole rilassanti che ti davo. Non puoi parlare della nostra missione e quindi numero quattro non puoi parlare delle nostre esperienze sessuali. Inoltre Jan non dovrai avere mai contatti con altri uomini nemmeno con tuo padre. Se parlerai di una di queste quattro cose tua sorella Karen diventerà cieca. Tuo padre verrà rimosso dagli alieni cioè eliminato, evaporato e prenderanno anche la piccola Susan. Non dire queste quattro cose a nessuno altrimenti verrai disintegrata perché loro hanno il potere di toglierci tutto, anche l'anima. Non esisteremo più. Jan è una ragazzina plagiata e manipolata. Crede nella vita dopo la morte. Questo pensiero la terrorizza. È davvero terrorizzata. Quindi obbedisce a lui anche perché crede davvero che ci siano questi alieni che li stiano controllando. Bob e Marianne arrivano in Messico e finalmente dopo settimane abbracciano Jan. E fu un momento molto commovente. Jan però esclama subito. E B? Non può restare qui. Gli faranno del male. I genitori allora dicono a Jan che a lui avrebbe pensato l'FBI ma quella parola lei scoppia a piangere. Perché avete chiamato l'FBI? Eravamo in vacanza e tutto ok. Ora dobbiamo salvarlo. Il padre di Jan la osserva e piange. Piange e basta. In aereo lei non vuole nemmeno sedersi vicino a lui. Nulla non lo tocca. Non gli parla. E lui pensa ad una cosa orribile. Non può non può fare altrimenti. Questa qui non è la nostra Jan. Per entrambi i genitori è chiaro che la storia non sia finita lì. I Broberghe a questo punto inviano in Messico il certificato del matrimonio chiedendo che venga annullato. B viene arrestato e ricondotto in America dove finisce a giudizio con l'accusa di rapimento. Rientrati a casa Jan viene subito visitata da un medico in maniera approfondita. Il medico certifica che la ragazzina non è stata penetrata in maniera totale. Cioè che l'imene non è lacerato. Tuttavia ci sono segni evidenti di abuso. Cioè lui dice che qualcosa questa bambina è stato fatto. Jan di fronte alle domande risponde sempre in maniera spensierata. Dice abbiamo fatto paracadute, ci siamo divertiti, cose così. Ed è molto fredda soprattutto con suo padre così come B le aveva chiesto. E continua a difenderlo sempre. Jan quindi riprende la sua vita e vi dirò sembra stare bene. Va a scuola, frequenta i suoi amici, ha una vita normale. Ma in profondità lei pensa sempre a B. Pensa come faremo a completare la nostra missione. Jan si distacca dalla sua famiglia perché sa che è una missione da compiere. L'agente dell'FBI Welsh sconsiglia sia a Bob che a Mary Anne di parlare con B e con sua moglie Gail. Non fate giocare i bambini insieme, non li frequentate più per nessuna ragione. È una faccenda molto seria. Ma davvero incredibile, loro non lo ascoltano. La vigilia di Natale la moglie di B, Gail, si presenta a casa Broberg e chiede di parlare con Bob da sola. Quando se ne va, Bob informa alla moglie che Gail gli ha chiesto di ritirare la denuncia contro suo marito, firmando anche delle deposizioni. Altrimenti tutti avrebbero saputo ciò che Bob aveva fatto tempo dietro con suo marito. Mary Anne è molto dispiaciuta, soprattutto per suo marito. Così, ricattati, loro firmano le deposizioni. In queste deposizioni dichiarano che Jan non è stata presa né con la forza né contro il suo volere, che non è mai stata trattenuta o rinchiusa con la forza. Dichiarano che l'imputato, probabilmente, riteneva di avere loro permesso per portare via la minore in quel lungo viaggio d'ottobre. Quindi lo coprono, lo giustificano. La gente speciale in Welsh è allucinato. Ma come lui praticamente vive da loro? Loro piangono per Jan ogni giorno? Lui si fa in quattro per aiutarli? Loro cosa fanno? Hanno la possibilità di avere in pugno questo mostro e invece cosa fanno? La gente dice una cosa dura ma assolutamente comprensibile, cioè che loro si preoccupano più per loro che per la bambina. E molta gente arrabbiata dice loro perché lo fate? Un procuratore federale telefona in ferocito Ebroberg e dice voi non potete farlo perché noi faremo un processo e abbiamo lavorato per questo. Cioè ragazzi, rendetevi conto, Berchtold doveva sostenere un processo ma gli stessi super testimoni dell'accusa avevano un colpo solo, distrutto il caso. I genitori di Jan hanno delle grosse responsabilità e loro lo sanno bene perché B viene rilasciato sulla parola e il suo processo viene rinviato, quindi questa persona esce di prigione. Uscito di prigione lui si trasferisce a Ojden, nello Utah, e inizia a lavorare nella concessionaria di suo fratello. Sua moglie Gayle non va con lui. Loro non si sono lasciati ma si sono solo separati per il momento. Lui tenta di sistemarsi in qualche modo per trasferire poi la sua famiglia e calmare le acque. In realtà ha lasciato la moglie Gayle a casa probabilmente perché così lui ha la scusa per poter tornare almeno nel weekend e vedere Jan. Il fratello riconosce quantomeno che nel suo lavoro è bravissimo perché lui avrebbe venduto una macchina persino ad un sasso. È un ammagliatore e un manipolatore nato. Ogni fine settimana come vi ho detto lui torna a casa così può vedere Jan e ogni domenica in chiesa come se nulla fosse e pensate la gente anche se da dietro gliene dice di cotte e di crude dal davanti gli dà delle pacche sulle spalle e gli dice oh come ci dispiace sappiamo che sei stato male e vedrai che molto presto tutto tornerà come prima. Capito come se fosse lui la vittima e qualcuno lo crede anche ma la cosa più assurda di tutte è che anche i Broberg e i genitori di Jan sono ancora gentili con lui quando rientra a casa. Loro dicono che non si sono ancora resi conto all'epoca di quanto lui fosse malato ma voi credete davvero che dopo il rapimento lui si sia rassegnato rispetto a Jan? Assolutamente no. La prima volta che Jan lo rivede è notte fonda e lei nella sua camera da letto sta dormendo quando sente un suono che la ricorda fin troppo bene che la fa svegliare. Sente il suono di una scatoletta metallica che gracchia, la voce degli alieni e poi B appare in camera sua. Parla della loro missione e del fatto che gli alieni stiano cercando di metterli in contatto e farli stare insieme. Cioè quest'uomo si è entrofolato come se nulla fosse in camera sua e Jan è talmente soggiogata da lui che resta in contatto con lui, fa in modo di vederlo, è complice, gli obbedisce fedelmente. È profondamente legata a lui questo punto più che ai suoi genitori. Non lo rifiuta affatto. Pensate che qualcuno a scuola le passa un biglietto dove ci sono delle istruzioni. Va in quella cabina telefonica alle ore 4 del pomeriggio e poi da lì lei riceve altre istruzioni. B le scrive anche delle lettere continuamente, la chiama Dolly, gli dice quanto mi manchi Dolly, siamo destinati a stare insieme. E la naturale reazione di Jan è ricambiare e dunque anche lei gli scrive delle parole dolci e amorevoli. Lo sai che sei un tesoro, se non lo sai voglio che tu lo sappia. Il nostro amore è grande, ne abbiamo passate tante. La tua Dolly. Perché esattamente come lui desiderava, Jan ha effettivamente mutato il suo pensiero su di lui. Ora, se pensa a lui, non pensa più ad un padre, ma ad un fidanzato, a un marito, a un uomo. Inizia anche ad esprimere questo apertamente ai suoi genitori. Mamma, io voglio stare con lui, voglio sposarlo, mi manca, vogliamo avere dei figli insieme. Jan sente di amarlo ad un livello veramente molto profondo. Pensa che quello sia amore. Dà questo nome a quella sensazione fortissima che prova, cioè una devozione totale per quest'essere. Arriva davvero a pensare che avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Ogni lettera che lui le manda trasuda di parole stucchevoli alternate a pennellate di manipolazione fresca. Lei non può mai dimenticarsi che cosa sono loro due, a cosa sono destinati. Quando Jan compie tradizioni, lui le scrive che forze maligne vorrebbero solo distruggerli, rovinarli. Ma io Jan ti amo e il resto però dipende da te. Devi essere coraggiosa, devi fare quello che devi e non devi perdere la speranza. Io non la perderò perché alla fine avrò te, per sempre, tuo B. Ero tentata di mettermi un secchio a fianco, vi dico la verità. Ora tenetevi molto forti, molto saldi, molto. Ve la dico così. Mary Ann, la madre di Jan e B, nella primavera del 1975 continuano ancora la loro relazione sentimentale. Ok, ripetiamo un attimo perché potremmo esserci persi. La madre di Jan, dopo il rapimento e il signor B, continuano ad avere una relazione sentimentale. Cioè, fra di loro non è mai finita, ok? Lui la chiama ogni giorno, le dice che la ama, parlano in continuazione, le dice che la vuole nella sua vita. Mary Ann arriva addirittura a chiedergli, ma perché ti sei sposato mia figlia Jan? Ti prego, dimmelo. Lui le invita più volte a raggiungerlo per parlarne di persona. Le dice ti spiegherò tutto e lei, signori, va da lui, va dallo stupratore e rapitore di sua figlia. Si incontrano, pensate, nel camper di B, lo stesso camper in cui lui aveva rapito, sequestrato, drogato, iniziato le pratiche sessuali, sua figlia. Parlano moltissimo e lui sembra così sincero. Le ripete lo sfinimento che la ama. Le dice, divorzia da Bob, vieni a vivere con me. Poi la tocca, le tocca prima una mano, poi una gamba, alla fine le dà un bacio e proprio in quel camper su quel letto, Mary Ann ha un rapporto sessuale con lui. Lei dice che ancora amava suo marito Bob, ma comunque lo tradisce con la stessa persona che le ha rapito la figlia dodicenne e l'ha portata in Messico, dove ricordiamoci l'ha anche sposata e che ha abusato di lei e che le ha fatto un lavaggio del cervello impressionante. È molto difficile comprendere le scelte di questa donna e Mary Ann ammetterà anni dopo che quel giorno lei ha davvero superato il limite da cui non si può più tornare indietro. Che anche Mary Ann sia una donna manipolata pesantemente da quest'uomo, beh, non ci sono dubbi. Dopo aver ottenuto ciò che vuole da lei, perché la sta ancora usando chiaramente, Bi telefona a Bob e lo mette di fronte al fatto compiuto, cioè che lui è stato a letto con sua moglie. Ma Mary Ann non si ferma, lei va a letto con Bi per otto lunghi mesi, si innamora davvero di lui e dice ancora che è così emozionante. È un uomo che a livello sentimentale e sessuale la coinvolge tantissimo. Ricordatevi che Jeanne è stata rapita nel 1974 e tra aprile del 1975 e il marzo del 1976 è il periodo in cui la storia di Mary Ann e di Bi si sviluppa e lei va ad incontrare Berchtold ben undici volte. Bob Broberg sa tutto, ma comprende che non è sua moglie quella che lui vuole. Lui vuole Jeanne. Mary Ann è un mezzo. E nello stesso periodo in cui Bi va con Mary Ann, incontra anche Jeanne nove volte, va in visita da lei la notte e due volte pensate riesce a passare tutta la notte con lei da solo. Lui a questo punto non vuole più giocare alla storia degli alieni, vuole averla, vuole farci sesso e quando la incontra lo pretende e vanno a letto insieme. Quindi non soltanto lui sta con la madre ma sta anche con la figlia e riesce a questo punto ad avere rapporti completi con Jeanne. Bob è un uomo sempre più annientato. In questa storia è quello che ha un pochino più di sale in zucca per quanto sia un uomo molto passivo anche lui. A questo punto però prende la sua decisione, va dal vescovo che comunque è una persona con cui si confida e gli racconta quello che sta avvenendo, cioè gli racconta dei tradimenti di sua moglie. Devo dire che a questo punto sono stata abbastanza colpita da questo vescovo perché questo vescovo consiglia a Bob di fare la scelta giusta. Gli dice Marianne ha perso la retta via e quindi lo invita a troncare il rapporto con sua moglie e così Bob chiede il divorzio. Marianne riceve l'ordine di lasciare la casa perché con il suo comportamento sta mettendo a rischio le loro tre figlie minori. Il giorno in cui Marianne riceve questi documenti Bob prende le bambine e le porta via con sé. Lui è deciso ad ottenere la custodia delle piccole, è semplicemente distrutto. B ha raggiunto il suo obiettivo, ha disintegrato questa famiglia, ha minato il loro rapporto, li ha indeboliti, li ha divisi e Bob quel giorno lo ricorda come il più brutto della sua vita porta le sue bambine ad una tavola calda e dice loro la verità, dice che lui e la mamma si sono lasciati e le piccole sono sconvolte perché nessuno all'epoca divorziava in paese, loro amavano profondamente i loro genitori, proprio i nostri genitori. Marianne quel giorno ammette la sconfitta, dichiara di aver perso tutto in un colpo solo e arriva a pensare anche a togliersi la vita. Qualche giorno dopo B chiama Bob e gli dice sprezzante che gli porterà via tutto, ti porterò via moglie e figlie. Poi chiama Marianne e le dice di raggiungerlo, che loro avrebbero avuto una vita insieme e tanta felicità. Ovviamente chiede a Marianne di portare con sé anche le figlie. Marianne allora gli dice io non lascio mio marito e lui le risponde ma non ti vuole, ti ha cacciato di casa e se assume un avvocato gli fa causa potrai anche tenere le tue bambine perché Bob è omosessuale. Non è vero, dice Marianne. Poi si rivolgesi all'avvocato ma per chiedergli come salvare il suo matrimonio. Racconta tutta la storia a un avvocato sconvolto che le consiglia come prima cosa questo, cioè di eliminare quell'uomo che è come un cancro per lei e per la sua famiglia per sempre dalla sua vita. Marianne lo fa, torna a casa dove trova suo marito Bob in cucina. Gli dice che lui non può crescere da solo le bambine e che loro hanno bisogno di entrambi. Gli dice è finita, uscirà per sempre della mia vita, ti prego perdonami. Loro in quella cucina si abbracciano e decidono di ricominciare la loro vita insieme. Per Bob può bastare, quindi decidono di tornare insieme ma anche che avrebbero combattuto contro B, ma il problema ora è un altro. Ora loro non possono più combattere tanto perché Jan sta crescendo, si sta imponendo e Jan vuole, vuole assolutamente B. 20 mesi dopo il rapimento, nel giugno del 1976, quando Jan ha 14 anni, B accetta il patteggiamento. Decide quindi di presentarsi in tribunale e si dichiara colpevole di rapimento. Viene condannato a 5 anni, ridotti a 45 giorni di pena. Lui ha 3 mesi di tempo per presentarsi in carcere, ma B se ne va via da pocatello e sapete che cosa fa? Lui acquista un parco divertimenti a Jackson Hall in Wyoming e questo fa molto riflettere perché non c'è posto peggiore dove io vedrei un soggetto come lui. Jan chiaramente vuole andare a lavorare da lui in estate, per stare con lui, prega a sua madre, discute con il padre, li supplica. Il padre le dice assolutamente no. È l'autunno del 1976 e Jan inizia a divinire davvero ostile con la famiglia. è sempre arrabbiata, discute con i genitori, anche con le sorelle. È un tormento. B chiama la sua ex amante, Mary Ann, e le dice non riattaccare. Io voglio solo dirti che Jan viene qui da me a Jackson Hall e se non lasci venire si fa l'autostrada e viene a piedi. Così alla fine la madre di Jan le compra un biglietto aereo per metterla almeno al sicuro nel viaggio. Quindi le dà un biglietto per raggiungere un uomo che ha rapito sua figlia, che l'ha violentata e che è anche il suo ex amante. Bob è furioso ma sua moglie riesce solo a dire cara un giorno te ne pentirai. Jan rimane lì a Jackson Hall per due settimane vivendo nel camper di B e qui loro continuano la loro missione cioè vanno letto insieme. B dice anche a Jan che sta divorziando da sua moglie Gail e che è pronto per sposarla e Jan è d'accordo con lui anzi è convinta di amarlo più della sua stessa vita ed è convinta che lo scopo della sua vita sia completare quella missione con lui prima del raggiungimento dei suoi 16 anni di vita. Il fratello di Bob riferirà che in quel periodo B è felicissimo con Jan. Probabilmente aggiunge perché lui è con una ragazzina ed è con una ragazzina oltretutto che lo ricambia. Non la sta costringendo fra virgolette perché l'ha costretta però non la sta costringendo a stare con lui con la forza ed è tutto ciò che lui desidera. Lui non vuole soltanto avere una bambina lui vuole avere una relazione vera con una giovane ragazzina. Mary Ann spinge perché Jane torni a casa e alla fine lei rientra a casa ma è arrabbiatissima. La presenza di Jan a casa è insostenibile è sempre agitata nervosa perché lei in cuor suo sa che il futuro del mondo e della sua famiglia dipende da lei. B continua anche a telefonare a Mary Ann e le dice che Jan deve essere sua e che se non glielo avessero consentito con le buone lui le avrebbe portata in Africa questa volta nella giungla in Sud America. Ma i genitori continuano ad opporsi e di fronte alle loro opposizioni Jan scappa una seconda volta. È il 10 agosto del 1976 loro trovano un biglietto alla mattina in camera sua c'è scritto questo. Cari Bob e Mary Ann non mi lasciate fare la cosa giusta quindi io farò la cosa sbagliata. Parto senza B e non tornerò finché non mi accettate per quella che sono. Non condivido la vostra religione o la vostra morale distorta. Io voglio essere me stessa e voglio stare con B. Vi prego prima che sia la fine per tutti lasciatemi andare Jan. Questo biglietto però non sembra farina del suo sacco e oltretutto vi sottolineo come Jan abbia dichiarato di essere andata via da sola senza B. Quello stesso pomeriggio B chiama a casa Broberg e dice che Jan lo ha chiamato formato di essere scappata ma che non vuole dirgli dove sia e che lui è molto preoccupato. Quindi sembrerebbe questa volta che lui non c'entri nulla. Passano i giorni i genitori sono molto preoccupati, la storia si ripete e quindi loro raccontano a tutti che Jan è dalla nonna perché non possono affrontare di nuovo quella situazione. Ancora una volta i Broberg insabbiano tutto e chiamano l'FBI solo dopo due settimane ma in tutto questo tempo Berchtold si dimostra sempre molto preoccupato e dichiara di non saperne nulla. Il primo settembre sono passate tre settimane dalla scomparsa di Jan e B entra anche in carcere e con uno sconto per buona condotta resta dentro solo dieci giorni quindi lui sconta la sua pena per un totale di dieci giorni. Uscito si trasferisce a Salt Lake City vivendo nel suo camper e entrambi spariscono nel nulla sia B che Jan. B però continua a sostenere di non sapere dove sia la ragazzina, anzi ogni giorno chiama Mary Ann e piange e cerca notizie di lei. L'agente speciale Pete Welsh che non gli crede affatto consiglia di rispondere sempre alle sue telefonate dal momento che il telefono è controllato. Va avanti così pensate per tre lunghi mesi, B chiama, dice che qualche volta sente Jan al telefono ma che non sa dove lei sia e che ha il sospetto che si prostituisca per vivere. Piange, si dispera, le conversazioni sono agghiaccianti. Mary Ann dice oh B è terribile e poi piange e lui risponde con aggressività sapete cosa vi dico se mi state tendendo una trappola io vi uccido e lei risponde senti se mi stai mentendo tu ti faccio uccidere io i miei fratelli lo farebbero. Non capisco se mi prendi in giro o no. Le emozioni di Mary Ann sono costantemente bombardate perché non dimentichiamoci che lei ama quest'uomo ed è stata anche intima con lui tanto da chiudere gli occhi a tutto ciò che quest'uomo ha fatto alla sua famiglia e alla sua bambina. In queste conversazioni lui non le dimostra alcun tipo di affetto, le parla solo di Jan, le dice con voce tremolante che la rivuole, che vuole sposarla, che quando pensa a lei è al settimo cielo ed è sinceramente disgustoso ascoltare queste conversazioni pensando che quest'uomo riporta queste cose alla madre di questa ragazzina. Comunque i mesi passano, siamo a novembre del 1976, sono passati i 90 giorni dalla scomparsa di Jan per la seconda volta. La polizia sta perlustrando da tempo tutti i campi caravan e finalmente riesce a trovare quel camper, il camper di B. Loro decidono di non bussare alla porta ma si appostano e controllano quel camper 24 ore su 24. Dopo tre settimane un agente della zona decide di andare da lui per spingerlo allo scoperto ma B dà sempre la stessa versione, lui non sa dove sia Jan. Però è difficile credergli perché è troppo sereno, in quell'occasione nel camper la gente nota che lui ha foto gigantesche di Jan ovunque, poster alle pareti, sembra una sorta di tempio in suo onore. Ci sono foto di Jan fin da bambina, ci sono moltissimi scatti fatti tutti da B. Finalmente dopo mesi a casa Broberg squille il telefono ed è Jan che si mette in contatto con loro. Risponde Karen, la sorellina, che prende la telefonata. Piange disperata, gli dice come stai, dove sei? Ma Jan risponde con voce fredda volevo solo dirvi che vi voglio bene e che mi mancate tanto. La famiglia piange e dice Jan ti prego torni a casa, torni. Volevo solo dirvi che vi voglio tanto bene. L'11 novembre del 1976 Jan manca da casa da 102 giorni. Gli agenti sono sempre appostati fuori dal camper di Berchtold ma finalmente questo giorno qui accade qualcosa. B attraversa la strada e raggiunge un telefono a gettoni di un benzinaio. Entra nella cabina e resta al telefono circa dieci minuti. Quando esce lascia la rubrica telefonica aperta e quindi gli agenti leggono un numero. Pasadena, scuola cattolica femminile. In questa scuola però non c'è nessuno con il nome di Jan Broberg ma gli agenti insistono. La persona che cerchiamo probabilmente usa un nome falso e alla fine la trovano. Janis Tobler e rintracciandola scoprono tutto ciò che è accaduto in quei mesi partendo dal primo giorno della sua scomparsa. Dietro tutta questa storia c'era sempre stato lui, è ovvio. La sera del 10 agosto del 1976 B si apposta fuori dalla camera di Jan e la fa fuggire dalla finestra. Salgono sulla sua Lincoln e partono in direzione della California. Lui fa quasi ridere e lei scrive appunto in un collegio cattolico per sole femmine. Un posto dove lei è abbastanza lontana da Pocatello ma sufficientemente vicino a lui per andare a trovarla ogni fine settimana. Alle suore lui racconta che Jan, o per meglio dire Janis, è sua figlia e che lui è un agente della CIA in fuga dal Libano per via della crisi libanese. La madre di Jan è deceduta e quindi lui chiede alle suore di occuparsi di lei perché lui è via per lavoro ma ogni fine settimana sarebbe rientrato da lei. Racconta questa storia manipolando le suore perché così ovviamente se qualcuno avesse cercato Jan da loro loro sarebbero state più inclini a proteggerla perché probabilmente coloro che la cercano sono i cattivi. Bertolt viene quindi arrestato il giorno seguente per violazione della condizionale e riportato in carcere. Jan viene costretta a riprendere l'aereo e viene riportata a casa e questa volta per darle un segnale le vengono prese le impronte e viene schedata e messa in cella. Dopo viene riportata a casa dai suoi genitori ma lei non li degna di un'occhiata, va giù e si chiude nella sua stanza. Ora ci dobbiamo ricordare che Jan è una vittima qui. Dobbiamo provare a capirla perché è stata manipolata e abusata per anni. Ne hanno fatto credere cose incredibili. Lei è schiacciata dall'ambiguità e dai sensi di colpa. Non sa più chi è in una fase come quella adolescenziale dove lei vive la normale crisi di un adolescente centuplicata. Non è più la bambina vivace e allegra di sempre. Lei soffre molto, è cambiata davvero tanto e la sua famiglia soffre moltissimo, le sorelle soprattutto. B non ha distrutto solo la vita di Jan ma di tutte le persone di quella famiglia. Lui è esattamente come un cancro per loro che li sta consumando da lunghi anni. Jan soprattutto evita categoricamente il suo padre. Non gli parla, non lo tocca mai, sembra vuota, sembra senza emozioni. È proprio un guscio svuotato da ogni cosa. Il 24 gennaio del 1977 Jan è rientrata a casa da circa un mese e mezzo e quella notte un dipendente di Bob telefona casa Bruberg. Il negozio va a fuoco. Il negozio di fiori di Bob è completamente alle fiamme. Tutta la famiglia si precipita sul posto e Bob è stravolto perché ha perso anche la fonte di sostentamento per la sua famiglia. Ma comunque lui prende tra le braccia la sua famiglia, tutte e quattro le sue donne e urla. Che bruci perché tutto quello che voglio, tutto ciò che conta è qui tra le mie braccia. In questo preciso istante Jan ricomincia a provare qualcosa. Un bruciante senso di colpa innanzitutto perché pensa è colpa mia, si accade, accade per colpa mia. Perché sanno tutti che è stato Berchtold. Lui ha minacciato a lungo Bob e la sua famiglia affermando che li avrebbe uccisi se loro non gli avessero fatto rivedere Jan. E odiava soprattutto Bob perché è il padre di Jan, perché l'uomo nella sua vita. È ovviamente un odio malato, è chiaro. A questo punto quando il negozio di Bob brucia anche gli agenti si convincono che l'uomo sia in pericolo perché dalle parole si è passati ai fatti. Si scopre così che B aveva convinto due compagni di cella in scarcerazione a bruciare il negozio di Bob offrendogli mille dollari al mese. I due vengono incriminati ma non riescono comunque ad inchiodare Bob Berchtold. A questo punto B ha vari capi d'accusa su di lui, sequestro di persona, aver affermato di essere un agente della CIA eccetera. Ma alla fine lui viene scagionato in quanto ritenuto insano di niente. Lui la fa franca sotto molti aspetti. L'incendio, il sequestro di persona, la sostituzione di persona, cioè l'essersi finto un agente della CIA. Lui è riuscito a farla franca soprattutto tenendo in pugno per molti anni i Broberg che avevano avuto con lui dei rapporti intimi e sessuali di qualche natura. Se le cose fossero andate nella maniera giusta lui avrebbe dovuto prendere un minimo di vent'anni se non l'ergastolo. Nel 1977 quindi viene trasferito in una clinica psichiatrica per essere curato e sei mesi dopo, indovinate dov'è? È fuori. In una confessione registrata con la psichiatra lui racconta di essere guarito perché la sua psichiatra gli ha fatto capire da dove nasca la sua ossessione per Jan e qui lui racconta la sua infanzia. Bob Berchtold B è nato in un ranch isolato del Wyoming e ha vissuto insieme al suo patrigno. È sempre stato isolato da tutti e non accolto in casa in famiglia ma costretto a vivere in un capanno. In questa rimessa lui viene abusato sessualmente dai domestici a più riprese. Quando sua madre si ammala e se ne va via di casa spetta a lui occuparsi della sua sorellina perché solo se lui bada questa sorellina che poi è una sorellastra allora viene accolto nella famiglia e trova un posto all'interno di essa. Questo per lui fu un trauma, un trauma che porta a tutti i suoi problemi successivi perché nella sua testa lui deve sempre prendersi cura di una bambina per trovare un posto nel mondo per essere accettato. A questo punto a giugno del 1978 Jan pensa ancora ad una cosa cioè che la missione non è compiuta. Ormai sta per compiere 15 anni quindi il tempo sta per scadere. Lei ha ancora contatti con B seppur non molti. Jan se ne renderà conto solo da adulta ma già percepisce che B sta perdendo interesse per lei. Lei lo avverte già ma capirà il perché solo più tardi perché lei sta crescendo. Lui non la trova più attraente. Nell'estate in cui Jan finalmente compie 16 anni lei inizia a capire che la storia degli alieni non è così reale. Lei esce dal suo guscio e fa delle esperienze illuminanti. Chiedo ad esempio di poter andare ad un campo teatrale. I genitori hanno ovviamente molta paura lasciarla andare via in un viaggio ma capiscono anche che Jan deve uscire da quel guscio tossico e deve fare amicizia con i suoi coetanei. E così va. In questo campo lei incontra un ragazzo e i due si piacciono ma lei ha sempre troppa paura di questi alieni. Quando lui le compra un gelato e glielo offre lei pensa che ci saranno delle orribili conseguenze. Infatti corre in dormitorio e quando è lì sua madre telefona. Sai Jan oggi i cani stanno malissimo. Devono aver mangiato qualcosa. Jan piange ed è sconvolta. Vuole tornare subito a casa perché pensa che sia colpa sua. Va a dormire ma al mattino la mamma la richiama. Jan volevo solo dirti che i cani stanno bene e a questo punto Jan prova un enorme sollievo. Inizia a crescere cioè il suo pensiero diventa improvvisamente adulto e concreto. Si rende conto che i cani non sono morti, che Susan non è stata rapita, che Karen non è cieca, che suo padre non si è dissolto nel nulla. Mi staranno controllando ancora o esistono davvero? Subito dopo però pensa no 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 scherzo esistono. Loro fino a quel momento sono stati il suo credo ed è molto difficile. Arriva il sedicesimo compleanno di Jan. Il giorno prima lei è in panico. Pensa che se non è incinta prenderà una pistola, dirà Susan della missione e se lei non vorrà sottomettersi alla missione allora la ucciderà e poi toglierà la vita a se stessa. È il 31 luglio. Quando si sveglia il giorno dopo il compleanno è tutto ok. I suoi genitori stanno bene, sono tutti vivi e così capisce che è stata ingannata ma ancora non trova la forza di raccontare a nessuno degli alieni e della missione. Solo tempo dopo si confiderà con Carolyn, la sua migliore amica, con sua sorella Karen. Nonostante la storia sia così assurda, loro comprendono che Jan ci ha creduto davvero, soprattutto perché questa storia le è stata fatta credere con tecniche manipolative molto invasive quando è solo una bambina. Così aiutata dalla sorella una sera, Jan impiega due ore ma riesce raccontare tutto anche ai genitori. La prigione mentale in cui lui l'aveva tenuta in quegli anni si sgretola. Tuttavia non racconta tutto, non racconta degli abusi e i genitori non chiedono i dettagli. Onestamente credo che avessero troppa paura di sapere, preferiscono non sapere che cosa le è stato fatto e ciò che loro stessi avevano permesso. Più avanti negli anni Jan ha dichiarato che gli approcci sessuali, le violenze, i rapporti con Bertold in quegli anni sono stati più di 200. 28 anni dopo, Jan è un volto pubblico molto amato, diventa anche famosa anche per carriera, poi ve lo dirò. Lei racconta pubblicamente la sua storia di come è stata rapita e plagiata fin da bambina da un caro amico di famiglia. Sua madre Mary Ann ha scritto un libro dal titolo Stolen Innocence, potreste anche leggerlo. Un libro che nasce da grandi conversazioni fatte con sua figlia. Mary Ann e Jan andarono a fondo su ciò che B aveva causato in loro, come le aveva divise ingannate. Così Mary Ann inizia a scrivere e poi lei e Jan iniziano a tenere interviste e a parlare in vari eventi. Sono a questo punto della loro vita più unite che mai. Ci tengo a precisare che è molto doloroso per i genitori di Jan raccontare tutti i loro errori, la loro storia, soprattutto per il forte giudizio che avvertono da parte dell'opinione pubblica. Però va dato il loro atto che lo fanno. Come in una sorta di purgatorio, non si sottraggono più a ciò che hanno fatto, a tutto quello che hanno fatto. Quindi loro davanti al pubblico, che li guarda orripilati, raccontano dei rapporti sessuali con B, del rapporto sessuale avuto da Bob con B, di tutte le concessioni e di tutte le volte che hanno chiuso gli occhi. E quindi in qualche modo ci stanno mettendo davvero la faccia, almeno per raccontare la loro storia e permettere ad altre persone di non fare i loro stessi errori. Ma che fine avrà fatto B? Beh, B prova ad andare i loro convegni. Dice ad alta voce che loro non devono parlare, che sono tutte menzogne. Viene fatto uscire tutte le volte dalla sicurezza. Dice che Jan voleva stare davvero con lui e per nascondere questa verità si era inventata la fesseria degli alieni. Inizia a minacciare Jan e Marianne. Dice o ritirate il libro o vi distruggo la vita. Arriva di inondare pocatello di volantini che calugnano le donne e la famiglia. Dice che Jan era stata venduta a lui dai genitori per avere in cambio incontri sessuali con lui. A questo punto Marianne chiede un'ordinanza restrittiva per stalking nei confronti di quest'uomo e vanno di nuovo in tribunale dopo 30 anni e a questo punto Jan, una donna ormai adulta, deve rivedere quell'uomo che probabilmente si trova lì solo per poter parlare ancora con lei. Jan racconta che è stato orribile perché nonostante siano passati 30 anni e nonostante lei sia una donna adulta i primi 5 minuti trema come una foglia davanti a lui. Berstold con voce molto calma la incalza. Le dice Jan quanti soldi ricevete per questa bella storia? Ci farete anche un film? È il vostro obiettivo? E Jan risponde il mio obiettivo è informare la gente di prodattori sessuali come lei. Come fa a guardarmi negli occhi? Lei è senza anima. E lui le risponde Jan mi dispiace che la pensi così. Vorrei porgerti pubblicamente le mie scuse per il dolore che ti ho causato. Allora si alzi in piedi, dica la verità e sconti la sua pena signor Berstold. Jan vince questa causa. Berstold ottiene un ordine restrittivo ma non per soli tre anni come solitamente avviene per tutto il resto della sua esistenza. Un po' tardi. Lui non si ferma comunque. Ormai pensate è un uomo anziano perché ha 70 anni e passa ma continua a caparbio a presentarsi alle conferenze di Jan. Un giorno mentre lei sta parlando ad un pubblico di donne fuori ci sono i motociclisti contro le molestie. Un'associazione di centauri che controllano che nessuno disturbi questo tipo di associazioni e di convegni. Berstold si presenta lì e investe uno di loro fortunatamente senza ferirlo gravemente. A quel punto chiamano la polizia e lo trovano con una pistola così viene nuovamente arrestato e denunciato per tre reati penali e due reati minori. Viene dichiarato colpevole e gli viene chiesto di ripresentarsi dopo una settimana per la sentenza ma lui dice io in carcere non ci vado perché mi ammazzano appena entro. Così lui prende tutti i suoi farmaci per il cuore e li scioglie con latte e calua che dovrebbe essere un liquore messicano a base di rum e caffè e beve fino ad uccidersi. Si toglie la vita. Jan quando lo scopre prova diverse sensazioni, piange, prova dolore per tutte le persone che lui ha tormentato. Pensate che dopo di lei sei donne hanno raccontato di essere state delle bambine abusate da B, esattamente come lei. Jan non era stata la prima e probabilmente non è stata l'ultima. Per lo sopro di una di queste bambine lui aveva scontato solo un anno. È così che va il mondo. Lui era un predatore sessuale, un orco, sempre libero di farla franca e ricominciare a colpire. Ha oltretutto scelto come morire e non ha passato la sua intera esistenza fissando un muro spoglio dentro una prigione. Ci si domanda perché. Jan ha sicuramente sofferto molto nella sua vita e ha dovuto perdonare per non vivere un'intera vita dentro ad una prigione emotiva. Per prima cosa ha perdonato i suoi genitori aiutandoli anche a perdonarsi. Anche loro sono stati manipolati per lunghi anni. Bob è sicuramente la persona che più di tutte ha sofferto e che si colpevolizza per non aver capito e protetto sua figlia. Anche Marianne è stata a lungo manipolata da B. Dicono che lui fosse un vero maestro in questo. Comunque la famiglia Broberg è rimasta molto unita. Loro si amano moltissimo. Si sono perdonati. Non hanno permesso a Berchtold di distruggere completamente le loro esistenze. Ma anche Marianne come Bob si sente la colpevole primaria perché era stata anche lei vi ricordate la prima a far entrare quell'uomo nelle loro vite. E mentirai se non vi dicessi che l'unica persona che Jan vorrebbe cancellare dalla sua vita è proprio quella a cui pensa ancora ogni giorno. È inevitabile che sia così. Una parte di lui è sempre rimasta con lei. È una cosa con cui è costretta a fare i conti. Jan però è diventata un'attrice. È diventata una cantante e una produttrice televisiva. Il suo ruolo più importante è quello dell'infermiera Louise nella serie Everwood. Si è sposata due volte. Prima con un uomo con cui ha avuto un figlio Austin e poi vive oggi una relazione felice con il suo secondo marito Larry Felt. Vi ringrazio per avermi seguito. È stato un po' difficile arrivare alla fine per via appunto di questo affanno. Per questa settimana non registro più. Chiaramente il nostro appuntamento del martedì è sempre confermato ogni martedì perché io lavoro con anticipo. Passerò alla fine di queste ferie scrivendo tanti testi e rilassandomi. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia. Mi raccomando scrivetemi commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate perché sono curiosissima. Vi piace ascoltare storie come questa oltre alle classiche storie che comunque continuerò a portare di Corona Caniera? Buona settimana! Grazie a tutti!